Visti gli enormi ritardi collezionati nel corso degli anni dalla provincia di Salerno nella realizzazione e nella conclusione dell'intera Fondovalle Calore manifestatasi sia nei ritardi della conclusione del primo lotto sia nella partenza degli altri lotti più volte annunciati e mai partiti nel corso degli ultimi anni, il Consiglio Comunale di Roscigno del 10 dicembre scorso ha votato la richiesta di commissariamento della Fondovalle del Calore salernitano. La delibera è indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Governo affinché venga finalmente completata nel più breve tempo possibile utilizzando gli stessi strumenti amministrativi adoperati per la ricostruzione del famoso Ponte Morandi di Genova. Inoltre, si legge nella delibera, verrà presentata formale richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per fare una ricognizione e un recupero delle somme residue dei finanziamenti esistenti sin dal 1986 e degli altri fondi stanziati nel corso degli anni per realizzare i lotti mancanti e ancora non completati della Fondovalle del Calore salernitano. Una richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché verifichi se dopo più di 30 anni sia stata prodotta una progettazione riadeguata, completa, esecutiva e realmente cantierabile dei lotti ancora non ultimati della stessa Fondovalle del Calore salernitano e infine l'autorizzazione agli organi politici e agli uffici comunali per la trasmissione della presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Presidente della Repubblica italiana per chiedere ufficialmente il commissariamento della Fondovalle del Calore salernitano e velocizzare i tempi di realizzazione.